Musica Buon pomeriggio e bentrovati con il telegiornale DRT Calabria Controlli straordinari nell'ambito del piano nazionale Focus Drangeta Reggio Calabria Perquisizioni e controlli nel quartiere Archicep Servizi di controllo nell'ambito del piano nazionale di sicurezza Denominato Focus eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato Nel quartiere Archi di Reggio Calabria Zona ad alta densità mafiosa Impiegate circa 100 unità della Polizia di Stato al giorno Attraverso anche il reparto prevenzione crimine Il quinto reparto volo della Polizia di Stato Le unità cinofili antidroga L'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Nonché personale della squadra mobile E del gabinetto regionale di Polizia Scientifica Nell'ambito dell'attività operativa Sono state controllate 441 persone 288 vetture E sono state effettuate numerose perquisizioni Ad obiettivi sensibili Nel corso della vasta operazione di polizia È stato tratti in arresto Leone Stivilla 25 anni a Regino Con precedenti di polizia per armi, rapina E detenzione di stupefacenti Nel corso della perquisizione domiciliare Infatti gli operatori della Polizia di Stato Hanno rinvenuto Occultati all'interno della lavatrice 140 grammi circa di sostanza stupefacente Tipo cannabis La perquisizione stesa al garage Ha consentito di rinvenire Sottoporre a sequestro Anche munizioni detenute illegalmente Stivilla è stato denunciato Anche per il reato di furto di energia elettrica Avendo creato un allaccio abusivo alla rete Con Raffaele Falvo Segretario provinciale della CGL Abbiamo fatto il punto dei risultati Del sindacato per le elezioni della RSU Allora abbiamo analizzato un po' Quelli sono stati i dati Delle elezioni per la RSU Che si sono tenuti il 3, il 4 e il 5 di marzo Parliamo un attimo della crisi Oggi c'è una riscoperta del sindacato Del ruolo del sindacato I lavoratori vogliono essere rappresentati dal sindacato? Ma a prescindere dalle cose che sono state Purtroppo quotidianamente vengono dette Credo che il rapporto tra lavoratori e sindacato Non si è mai interrotto Abbiamo sempre cercato di spiegare Il più possibile che Non c'entra nulla la difficoltà Che purtroppo ha la politica Alle istituzioni con quelle che ha il sindacato Perché il confronto Non manca per quello che ci riguarda Certo abbiamo e soffriamo Di questa antipolitica generale E noi quotidianamente ci sforziamo Di ridurla il più possibile Non solo ed esclusivamente con i ragionamenti Ma con l'azione quotidiana E' chiaro che con l'azione quotidiana Farla in un momento di crisi Diventa ancora più complicato Però ci stiamo provando Certo è più difficile farlo Con chi ha perso il posto di lavoro E' più difficile farlo con chi è in cassa integrazione e mobilità E non riesce a vedere all'orizzonte una soluzione E' più difficile farlo per chi è stato espulso dal lavoro E non può fare domanda di pensione Diventa leggermente più facile Con chi ha un posto di lavoro Chi ha i minimi diciamo sindacali garantiti Ma in quella direzione bisogna lavorare E soprattutto bisogna capire Come riconquistiamo anche la fiducia Di chi ha perso il posto di lavoro Dei tantissimi giovani Dei tantissimi laureati Di quelle figure Che hanno un'età I cosiddetti cinquantenni Che espulsi dal lavoro Non hanno più molte possibilità Di trovare occupazione Quindi bisogna mettere insieme Tutte queste figure E il sindacato lo sta facendo La CGL lo sta facendo Per avanzare delle proposte concrete Noi l'abbiamo fatto con il piano per il lavoro Lo facciamo in tutte le occasioni Dicendo e sottolineando In tutti gli incontri che facciamo Che se non partiamo dal lavoro E se non partiamo da una riforma delle pensioni Diventa veramente difficile Creare i presupposti Perché l'Italia E quindi la Calabria E quindi la nostra città Possa, il nostro territorio Possa riprendere, accorrere E superare la crisi in cui ci troviamo Una nota di cronaca Una bimba di due mesi è morta La notte scorsa a Corosia Mentre dormiva nella culla La madre, una casalinga di 35 anni È andata ad allattarla E si accorta che non respirava più Ha chiamato la guardia medica I medici del 118 Ma la bimba era già morta Sul posto sono intervenuti Anche i carabinieri Della compagnia di Rossano Da un esame esterno Sono stati esclusi segni di violenza La morte sarebbe da attribuire Ad un rigurgito Il PM si è riservato di disporle L'autopsia Presso la sede Della giunta regionale Della Calabria In piazza Rossi di Catanzaro Una manifestazione con sit-in Del sindacato unitario Lavoratori della polizia locale Per promuovere la riforma Della polizia locale italiana Unica in Europa Ad essere inserita In un contesto Contrattuale privatistico Una manifestazione Organizzata dal sindacato unitario Della polizia locale Quali sono le vostre richieste? Noi abbiamo delle richieste Che chiaramente Dobbiamo rivolgere A livello statuale Quindi con la modifica Del senato È chiaro che Rivolgiamo al governatore Abbiamo questo problema Noi dal 2011 Con il governo Monti Siamo stati defraudati Dalla causa di servizio E dall'equinternizzo In altre parole In parole povere Se uno di noi Si fa male in servizio Non ha diritto Alla causa di servizio Immaginate Noi abbiamo Anche dei caduti L'ultimo in ordine Nicolò Savarino Deceduto Alla vedova Sono andati soltanto 20.000 euro Di rimporso Perché questa legge Praticamente Ci taglia fuori Da tutto ciò Che è previsto Per il comparto sicurezza Eppure Svolgiamo le stesse Funzioni di polizia Che sono Imprivatizzabili Così ha detto Il Consiglio di Stato Più volte Svolgiamo le stesse Funzioni Delle altre forze Di polizia Ma a fronte di questo Abbiamo un trattamento Previdenziale diverso Una norma Contrattuale diversa Noi siamo legati Al contratto Privatistico Degli enti locali Quindi Siamo equiparati Agli impiegati Del comune Con tutto il rispetto Però noi svolgiamo Ben altre funzioni Svolgiamo funzioni Di polizia giudiziaria Svolgiamo funzioni Di polizia stradale Annonaria Commerciale Tributaria Seppure a livello locale Quindi Questo è quello Che chiediamo Ai prossimi senatori Che saranno I governatori Delle regioni Chiediamo proprio questo Interessamento Nei confronti Di questa categoria A livello regionale Chiediamo che venga Approvata una nuova legge Perché Per la riforma Del titolo quinto La regione Ha competenza esclusiva Nel settore Della polizia locale Quindi chiediamo Che venga Approvata una nuova legge Che tenga conto Della formazione Pensate che dal 90 La legge 24 Prevedeva Entro sei mesi L'istituzione Di una scuola Di polizia locale A distanza di 25 anni Non è stata ancora Istituita Abbiamo I segni distintivi Diversi Perché è stata abbandonata La polizia locale Alle autonomie locali Quindi ciascuno Ha coltivato il proprio Orticello Ciascun comune Ha previsto Dei segni distintivi Ha comprato le macchine Mettendo i colori Che voleva E addirittura Nel 2014 La regione Calabria Per la polizia locale Ha previsto Zero in bilancio Sul ritiro Delle dimissioni Della società Sogas S.p.a. Che gestisce L'aeroporto Dello Stretto Oltre all'impegno Provuso Dalla provincia Si unisce Quello del comune E della regione Per riuscire Ad ottenere Rilascio Della concessione Da parte di Enac La società Di gestione Dell'aeroporto Dello Stretto Precisa che In merito Di dimissioni O cessazione Degli amministratori Così come previsto Dall'articolo 2385 Del codice civile L'amministratore Che rinunzi All'ufficio Deve darne Comunicazione scritta Al consiglio Di amministrazione E al presidente Del consiglio Sindacale Questi Gli unici obblighi Esistenti Peraltro Regolarmente Rispettati Lo scorso 26 febbraio La circostanza La circostanza poi Che le dimissioni Siano state Comunicate Anche al socio Di maggioranza È dipesa Unicamente Dall'esistenza Del rapporto Fiduciario Tra gli amministratori Dimissionari E lo stesso ente Provincia Di Reggio Calabria Da cui discende Il loro Rispettivo mandato Trattasi Di dimissioni Presentate Si ricorderà Per superare L'impasse Manifestata Da parte Dei soci Fino ad allora Resi Sinadempienti Tutti Tranne La provincia Di Reggio Calabria Il cui apporto Sebbene minoritario Risulta Oggi Come ieri Comunque Determinante Per il futuro Dell'aeroporto Dello stretto E quindi Della stessa Sogas S.p.a Dimissioni Poi ritirate Per senso Di responsabilità Ancorché Le recenti Negative Dichiarazioni Apparse Sulla stampa E sugli organi Di informazioni Ingiungono Gli stessi Amministratori A rimanere Al proprio posto Al fine Di difendere Gli interessi Ed il buon nome Della società Ritiro Delle dimissioni Che è formalmente Avvenuto Prima Dell'assemblea Stessa Motivo Per il quale Non ha avuto Seguito La relativa Discussione Nel merito I lavori Assembleari Hanno fatto Chiaramente Emergere Una particolare Sinergia Iteristituzionale Favorevole Al gestore Ovviamente Fatte le dovute Eccezioni Pur esistenti E che interessano Alcuni singoli soci Una ritrovata Convergenza Dunque Resa possibile Per il positivo Tramite Del presidente Della provincia Giuseppe Raffa Nelle sue qualità Di socio di maggioranza Che vede oggi Impegnati anche La regione Calabria E il comune Di Reggio Calabria Per garantire Quanto necessario Per riuscire A traguardare L'agognato rilascio Della concessione Totale O trentennale Da parte di ENAC Il cui iter istruttorio Avviato nell'anno 2012 È a tuttora Sospeso In funzione Del rientro Delle criticità Che la società Di gestione Nei termini Stabiliti Dall'ente regolatore Dovrà A brevissimo Dimostrare Di aver superato Nei fatti Il partito Democratico Di Cutro Ha tenuto Una conferenza Stampa di risposta All'ex sindaco Migale Per spiegare I motivi Che hanno portato Allo scioglimento Del consiglio comunale Sentiamo Segretario Domenico Colosimo È stata indetta Questa mattina Qui a Cutro Una conferenza Stampa Per discutere Un po' Meglio Per chiarire La posizione Del PD Per quanto riguarda La vicenda Dell'ex sindaco Di Cutro Salvatore Migale Il quale Non si spiega Il perché Di questa decisione Di questa Diciamo se vogliamo Abbandono Della giunta No Più che Un abbandono Della giunta Innanzitutto Da rilevare Che il PD La giunta L'ha abbandonata Già da un anno Siamo all'opposizione Dall'anno scorso Quando la coalizione Che risultò Vincente All'amministrativa Del 2011 Diciamo Si ruppe Fragorosamente Perché Nel contempo Il sindaco Migale Aveva ritenuto Di stringere Un accordo Con il centrodestra La lista Che invece Si era contrapposta In quell'elezione Defenestrando Il PD Dalla giunta Questa è la ricostruzione Dei fatti C'è abbondante stampe Articoli di giornale Che sono stati diffusi Dal circolo Dall'attività Dei consiglieri Che testimoniano Tutto ciò Quello che è successo Venerdì 5 marzo Giovedì 5 marzo È che La maggioranza Dei consiglieri Della massima Assise cittadina Hanno deciso Di porre Fine A questa Consigliatura E questo è avvenuto Perché Quella Nuova maggioranza Che si era costituita L'anno scorso A distanza Di pochi mesi Da Quell'accordo Diciamo È terminata È terminata E questo Ovviamente Ha determinato Quella decisione Del consiglio Che ha portato Al commissariamento Quindi il Partito Democratico Era all'opposizione Un anno fa Ha lavorato In tutto quest'anno Dai banchi Dell'opposizione Non ha fatto mancare In alcuni momenti Importanti E delicati Per la cittadina Anche La sua funzione Diciamo Di opposizione Costruttiva Ovviamente Però Ha lavorato Fin da subito Affinché Quest'amministrazione Che si era costituita In violazione Del mandato Dei cittadini Andasse a casa Mi permetta Però Dopo aver ricostruito Brevemente Quello che Diciamo Le fasi Che hanno preceduto Il consiglio Di venerdì Di dire Il motivo Per cui abbiamo ritenuto Di dire Questa conferenza stampa Oggi E che è quello Di rispondere Alle pesantissime Infamanti accuse Che l'ormai Ex sindaco E l'ormai Ex assessore All'ambiente Carletto Squillace Hanno lanciato Sui giornali Accuse Di una gravità Inaudita Non fosse altro Che cercano Di Di far ricadere Sulla Ripeto Sulla determinazione Della maggioranza Dei consiglieri Un'azione Che Diciamo Loro sostengono Venga fuori Dalla politica Quindi è un'accusa Molto grave Per la quale I consiglieri Del partito Democratico Hanno già Dato mandato I legali Per verificare Se ci siano Gli estremi Per una denuncia Querela Perché ripeto Quell'atto È l'atto Massimo Di un'amministrazione E di un Consiglio comunale Che non è stato Preso alla reggera Ha pubblicato Su vari siti Internet Uno scritto In cui denigrava Un'azienda agricola In cui aveva Lavorato E poi ha chiesto Al titolare 1500 euro Per editare Altre pubblicazioni Con questa accusa I carabinieri Della compagnia Di Soverato Hanno arrestato Daniel Parretta A 42 anni Bloccato Dopo aver incassato 500 euro Dall'imprenditore Prima tranche Del pagamento Richiesto L'uomo È accusato Di estorsione L'Università Della Calabria Ha promosso Il bando TOLC Un provvedimento Che consente Agli studenti Dell'ultimo anno Delle superiori Di partecipare All'assegnazione Dei posti Riservati Per 11 corsi Di laurea L'obiettivo È dare La possibilità Agli aspiranti Studenti universitari Di poter scegliere Tra un ampio numero Di corsi di laurea Di primo livello Sia laurea triennale Successivamente Di secondo livello Sia laurea magistrale È solo uno Tra le finalità Del bando TOLC Promosso Dall'Unical Che consente Agli studenti Dell'ultimo anno Degli istituti Di istruzione superiore Di poter concorrere All'assegnazione Di un consistente Numero di posti Riservati Relativi Ad 11 corsi Di laurea Dell'Ateneo Riconducibili A 6 diversi Dipartimenti Quest'anno Abbiamo preso Una nuova iniziativa Che consente Agli studenti Di poter Affrontare Il test Di ammissione In anticipo Su diversi corsi Di laurea Abbiamo Questa informativa È stata inviata A tutte le scuole Con L'accesso Anche ad un sito Che permette Di registrare Gli studenti Fornendo tutti i dati Necessari Per la prova Ed anche I dati necessari Per consentire All'ufficio Di orientamento Di intercettare Questi studenti E di erogare Di fornire Tutta l'informazione Relativa Ai servizi Che L'orientamento Propone Agli studenti Quindi devono Registrarsi Sul sito Chiedendo Tutte le credenziali Di accesso Alla loro Scuola E quindi Poi Nelle date Per quanto riguarda I corsi di laurea In economia E statistica Per le aziende Alle assicurazioni Già ci sono Delle prove Che partono Nel mese di marzo Si è tenuto a Roma Nei giorni scorsi Un incontro Per siglare Il protocollo D'intesa Per la partecipazione Dell'agroalimentare Italiano Expo 2015 Un'occasione Per valorizzare Le eccellenze Scientifiche Culturali Artistiche Architettoniche Paesaggistiche E quelle più originali Ed esclusive Delle filiere Economico Produttive Del settore Il protocollo La partecipazione Dell'agroalimentare Italiano Ad Expo 2015 E' stato firmato Dal ministro Maurizio Martina Il commissario unico Del governo Per Expo 2015 Giuseppe Sala E il commissario Generale Del paghiglione Italia Diana Bracco In questo contesto Trova spazio Non solo la tradizione Ma anche l'innovazione Si è pensato Ad un ampio panorama Dell'Italian food E delle tecnologie Più originali Ed esclusive Capaci di offrire Al visitatore Un'esperienza integrata Dell'agricoltura italiana Durante i sei mesi Dell'esposizione Verranno predisposti Spazi dedicati All'esperienza Vitivinicola E alle filiere Agroalimentari Insieme all'organizzazione Di eventi Per la valorizzazione Delle start up Nel settore agricolo Ed agroalimentare Uno specifico Bando di gara Verrà attivato Dal ministero Dell'agricoltura Per la selezione Di nuovi progetti Con l'elevato Contenuto di innovazione Nelle diverse filiere Agricole e agroalimentari Da presentare Nel corso Dell'esposizione Il tutto condito Con un variegato Programma di promozione Del made in Italy Con eventi Di promozione Delle DOP Del biologico Di un unico Marchio identificativo Della produzione Nel protocollo Si prevedono Anche progetti Educativi Nei quali verranno Coinvolte scuole E università In collaborazione Con coordinamento Tra il ministero Dell'agricoltura E MIUR L'obiettivo Dell'intesa È proprio Quello di considerare Expo Una piattaforma Per far Del sistema Agroalimentare Italiano Un vero salto Di qualità Come afferma Il ministro Martina Che affida Alle istituzioni Il compito Di costruire Le condizioni Necessarie Per un lavoro Di squadra Tra pubblico E privato Per presentare Al meglio Il nostro settore Che è strategico Per tutto il paese Come ci dimostrano I suoi numeri In questo contesto La Calabria Trova ancora spazio C'è da chiederselo Anche perché oggi Ancora di più Che nel passato L'agroalimentare calabrese È un settore D'eccellenza Che merita Di essere esposto Nella vetrina Internazionale Di Expo 2015 L'importante Che non sia solo Peperoncino Ma una vasta esposizione Di prodotti Che rappresentino Al meglio La nostra terra 364 giorni Di indifferenza È stato questo Il titolo Della manifestazione Dedicata alle donne Che si è tenuta Presso il liceo Lilio Adorizio di Ciro Insieme agli alunni Di quest'istituto E insieme alla compagnia La linea sottile Si è inteso ricordare L'8 marzo Come un giorno importante Però Pressemo che lei Lo voglia anche ribadire La donna Va attenzionata Non solo L'8 marzo Ma per tutto Il periodo Dell'anno Difatti Non è caso Questa manifestazione Si chiama 364 giorni Di indifferenza Certo Nell'intitolare In questo modo Il nostro convegno Abbiamo voluto Mettere in evidenza Proprio Che Denunciare L'uso consumistico Della festa Della donna Che si riduce A un unico giorno Nel quale Ci si scambiano Gli auguri E Mentre Per il resto Dell'anno C'è la totale Indifferenza Nella quale Chiunque si sente Libero Di poter calpestare La sensibilità E la dignità Delle donne In diversi Posti del mondo In diversi Paesi Ancora Per la donna È vietato Guidare Un'auto Alle bambine È vietato Andare a scuola Devono ancora Andare Devono ancora Andare in giro Per le strade Coperte da un velo E anche Nella civilissima Europa E in Italia Stesso Le donne Sono pagate Meno degli uomini A parità di mansioni Oppure Spesso Vengono Maltrattate Abusate Perfino Nelle loro case Laddove Dovrebbero Sentirsi Protette Io voglio Ricordare Ciò che ha detto Il Papa La donna Ha una marcia in più In pratica Vede oltre La donna È più sensibile Ha un cuore Più tenero Certo Infatti Nel Attenzionarci Diciamo Alla sensibilità E al Richiamare Nel rispetto Dei diritti Dei diritti Della donna Noi dobbiamo Tenere presente I diritti Di tutti i più deboli E quindi Vogliamo anche Essere Tramite Per la Sensibilizzazione Verso i diritti Dei Dei Neri O dei Bianchi O dei Poveri O dei ricchi Così come Di tutte le religioni E' stata presentata Nella sala degli stemmi Della provincia di Cosenza L'iniziativa Incontriamoci a cena Un evento promosso Dalla fondazione Sommelier Che firma il connubio Tra Croazia E Calabria Per la promozione Del vino Presentata Nel corso Di una conferenza stampa Nel salone degli stemmi Della provincia di Cosenza L'iniziativa internazionale E dal titolo Incontriamoci a cena Un evento Che suggella e sancisce La fusione Tra le culture E le tradizioni croate Italiane Tra Dalmazia E Calabria A promuovere L'iniziativa La fondazione italiana Sommelier Calabria La dirigenza Del palazzo delle clarisse Diamantea L'ambasciata Della repubblica croata Nella repubblica italiana Con il patrocinio Della provincia di Cosenza Non a caso la Croazia La Croazia è uno degli ultimi paesi Che sta entrando in Unione Europea E noi la viviamo anche Come una sorta di Integrazione Di accompagnamento Diciamo di paesi Che hanno già un'esperienza All'interno Dell'Unione Europea Appunto Per accompagnare All'integrazione I paesi I nuovi arrivati Diciamo così E quello del vino È sicuramente Un elemento culturale Che ci accomuna Che accomuna Tutti i paesi europei In quanto paesi Tradizionalmente Produttori di vino Per distinguerci Da quelli che sono Invece i nuovi produttori di vino Che sono gli Stati Uniti Sud Africa Australia Eccetera Quindi abbiamo Un elemento culturale Che dobbiamo difendere E quindi più siamo E meglio è Nel corso dell'appuntamento In programma per il prossimo 14 marzo Si potranno degustare I vini dell'isola di Kvar In Dalmazia Assistere ad un interessante Seminario di approfondimento Per giungere poi Al Gran Gala del Gusto Una cena spettacolo Con un menù Capace di coniugare La gastronomia Dei due paesi Che hanno tanti in comune Per concludere Una sfilata Di abiti tradizionali Dell'isola di Kvar Non mancherà La musica poi Con Nando Brusco Il suo spettacolo Tamburo e voce E la solidarietà Perché parte Di ricavato dell'evento Sarà devoluto Il reparto di oncologia Pediatrica Dell'ospedale Annunziata di Cosenza E siamo arrivati Al momento Della rubrica Dillo a noi Oggi Affrontiamo la questione Dei lavori Infiniti Sulla A3 Salerno Reggio Calabria La storia infinita È il titolo Di un film Che calzerebbe A pennello Per un'altra Storia infinita La realizzazione Della Salerno Reggio Calabria Del film Sappiamo il finale Ma della Salerno Reggio Calabria Ancora no È una vicenda Che colpisce La collettività Che però è stata Di fatto inerme Nel senso che Abbiamo accettato Tutto questo E oggi paghiamo Il dazio Di Un senso civico Assente Quindi Nelle varie manifestazioni In cui il popolo Può autodeterminarsi Quindi Nelle votazioni O nelle contestazioni Noi siamo mancati E purtroppo Questo è quello Che ci ha riservato Lo Stato italiano Senta ma L'autostrada Salerno Reggio Calabria Riusciremo a vederla Completata Secondo lei Credo di sì Non si sa quando Ma credo di sì Come al solito Si sa come funziona Qui da noi Si iniziano i lavori Ma non si finiscono mai E da sempre Interrotto Io mi ricordo Facevo Cosenza La Mezzia Già 35 anni fa Era interrotta Sempre con interruzioni E ancora ci sono interruzioni Il lunedì Ma nel 2008 Sarà completata L'autostrada Quindi a questo punto Non so Lui aveva postulato Una prima pietra A Salerno Da quelle parti Con una serie di lavori Non lo so È veramente una cosa triste Speriamo Speriamo che i nostri figli I nostri ipoti Vedranno questa autostrada Io sono positivo Quindi speriamo di sì Bella domanda Spero presto Spero presto Ma la vedo dura Se fossimo un paese serio Dovrebbero immediatamente Sospendere il direttore dei lavori La ditta appaltatrice Il responsabile Il ministro E metterla in galera Prendere la chiave E buttarla E dopodiché Fra 6, 8, 10 anni Finalmente le faremo uscire Questo non succede Che cosa succederà adesso Ci saranno disagi Per andare avanti e indietro Questo poveraccio che è morto Sennò forse lo indernizzeranno Con qualche spicciolo La colpa di chi è? Non si sa Quando finirà questa storia infinita? Credo che Visto la mia età E mi ricordo da quando ero piccolo Che era sempre in continua Manutenzione Non so La vedo lunga Bene Il telegiornale termina qui Grazie per averci seguito Il prossimo appuntamento Alle 17 Buon pomeriggio Arrivederci Serie B Il campionato degli italiani Appassionati di calcio E non solo ben trovati Al consueto appuntamento Con Bnews Il notiziario web Che vi aggiorna Sulla Serie B Si è chiuso ieri sera Il trentesimo turno Con il posticipo Tra Virtus Sentella E Cittadella I liguri si sono imposti Per 2 a 1 Grazie ai gol di Staiti Bravo a sfruttare Un assist di Masucci E di Costa Ferreira Subentrato nella ripresa A Cutolo Nel finale Gloria anche per Cappelletti Che realizza il suo primo gol In Serie B Che però non basta Al Cittadella Per recuperare lo svantaggio Con questa vittoria La Virtus Sentella Sorpassa i Veneti E si porta a più due Dal quintultimo posto Occupato da Latina Trafani E per l'appunto Cittadella E vediamo adesso Qualche curiosità Sul turno appena concluso Tra i due litiganti Il terzo gode È il caso di dirlo Visto che nella sfida Tra i migliori attacchi Del campionato Dalla prima giornata Di ritorno ad oggi Alla meglio il Livorno Che rispetto a Pescare Vicenza Impegnate nello scontro diretto Realizza tre reti Nel match contro la Ternana E si prende quindi La testa solitare Di questa speciale classifica Il Carpi continua La sua marcia a triunfare Grazie soprattutto Ad una difesa davvero ermetica Sono infatti Soltanto tre Le reti subite dagli emiliani Nelle ultime undici gare Oltretutto La porta di Gabriel È inviolata da Benza Ai 126 minuti L'ultimo a trafiggere Il portiere brasiliano Fu Torregrossa Al quarto minuto Della sfida Tra Carpi e Crotone Del 31 gennaio scorso Calaio e Maniero Si confermano Gemelli del gol Nel vero senso della parola Visto che Nelle ultime tre partite In cui uno dei due Ha segnato Anche il compagno di reparto Ha fatto lo stesso Ma se nelle prime due occasioni Ovvero contro Provercelli e Perugia L'Etnei Avevano conquistato i tre punti Lo stesso non è successo Contro lo Spezia E chiudiamo parlando Delle uniche due squadre Ancora a secco di vittoria Nel 2015 Vale a dire Provercelli E Trapani Per i Piemontesi Quattro sconfitte E cinque pareggi Nelle ultime nove gare Mentre per i siciliani Sono cinque Le partite perse E quattro i pari Ma per occupare La formazione di Boscaglia C'è la scarsa vena offensiva Sono infatti tre I gol realizzati Nel nuovo anno E addirittura Nelle ultime quattro gare Di campionato I Granata Non hanno mai trovato La via del gol E prima di chiudere Vi ricordo di consultare Il nostro sito internet www.legaserieb.it Per tutte le informazioni Sul mondo della Serie B E anche di visitare I nostri profili social Gli indirizzi in sovraimpressione Per votare Al sondaggio Per quanto riguarda Il gol È la parte più bella Di ogni singolo turno Con questo è davvero tutto L'appuntamento torna venerdì Grazie E arrivederci Com'è andata? Allora bene Abbiamo vinto Una bella partita Con una squadra tosta E devo ringraziare Tutti i ragazzi Che quello che abbiamo provato Durante gli allenamenti Anche con gli innesti Dei ragazzi di Cosenza Si sono Si sono stati di grande aiuto Quindi Dobbiamo crederci Perché con il lavoro Si arriva dovunque Lei invece è il coach della difesa Com'è stata oggi La difesa Della sua squadra? I ragazzi hanno risposto bene Hanno lavorato Si sono impegnati molto Durante gli allenamenti E sono stati Molto contenti Di quello che ho visto Sia delle novità Di ragazzi nuovi Che sono comportati bene Che dei vecchi Giocatori Perché riescono a mantenere Sempre la difesa A un ritmo Quello che ci vuole Quello per avere Il controllo della situazione L'attacco del Napoli Ci ha messo in difficoltà Qualche volta Abbiamo fatto un paio di errori Che potevamo evitare Quindi dobbiamo migliorare Questi errori Che abbiamo visto Ora ci lavoriamo sopra Ma in compenso È andato benissimo E i ragazzi Mi sono piaciuti Coach oggi La prima sconfitta Qui a Crotone Con gli Akei Secondo lei è meritata? Sicuramente La formazione di casa Aveva il supporter Del pubblico Che hanno aiutato Psicologicamente E moralmente La squadra Noi siamo andati subito Sotto con il risultato Abbiamo cercato Di rispondere Nel secondo tempo E diciamo Che i risultati Si sono visti L'attacco Ha incominciato a macinare Un gran bel gioco Ma ormai loro Ci avevano distanziato Di un paio di touchdown E il gap Non siamo riusciti più A colmarlo Sicuramente Per il ritorno Con i nuovi innesti Daremo fino alla torce Da questa formazione Che è giovane Facciamo complimenti È stata comunque Una bella partita E una giornata spettacolare E al ritorno Speriamo di Di fare Diciamo lo stesso Di fare lo stesso Dare lo stesso trattamento Ci hanno dato con noi Sono stati molto gentili Carino anche il buffet Che hanno preparato E quindi Niente Soddisfatto È una bella giornata di sport E fin quando lo sport è sano E pulito Qualsiasi risultato Diciamo va bene Il prossimo sarà per noi Settimana delicatissima Nel campionato di serie A1 Femminile di pallannuoto Per la città di Cosenza Tubisider E c'è grande attesa Nell'ambiente sportivo Per lo scontro salvezza In programma Sabato 14 marzo Nella piscina di Cosenza Quando la formazione di casa Affronterà a due giornate Dalla fine La SIS Roma Entrambe le squadre Si presenteranno Al confronto Appaiate in classifica Città di Cosenza Tubisider SIS Roma La madre di tutte le partite È l'ultima Fondamentale Nel senso che Si decide la salvezza Oppure No Perché poi siamo a Firenze E l'ultima Fuori casa Diventa troppo delicata Quindi cerchiamo di chiudere Questo campionato Qua in casa E poi Basta Grinta, carattere, determinazione Coraggio E cos'altro Soprattutto coraggio E niente paura Perché non abbiamo niente di meno Rispetto a loro Sono loro che devono venire a casa nostra E batterci Noi dobbiamo fare la nostra partita E basta L'obiettivo per la formazione Allenata da Andrea Posterivo Sarà il successo pieno Che le consentirebbe di compiere Un notevolissimo passo in avanti Verso la salvezza Un'altra giornata da incorniciare Un'altra vittoria da mettere Su un curriculum Che sta veramente diventando Molto pieno e abbondante Ci troviamo oggi A Villaggio Palumbo Ma veniamo anche da altre Da altre vittorie Allora C'è stato un primo piazzamento A Camiglietello Silano Al campionato studentesco Invece oggi Un primo posto Alla selezione per il Pinocchio nazionale Il Pinocchio su Ischi Quindi ci sposteremo Cambieremo un po' Anche la destinazione geografica Andremo in Abruzzo Per quanto riguarda i campionati studenteschi Mentre nella betone Per quanto riguarda Questo Pinocchio su Ischi La tua esperienza Un consiglio che puoi dare Anche se ancora sei giovane Per dare dei consigli Però a quelli più piccoli Perché vedo che comunque È una cosa che sta aumentando Sempre di più come numero Che dire Allenarsi Non mollare mai Diciamo Le solite cose A quanti anni hai iniziato Mattia Scalise? Io ho iniziato a sciare Sciare a cinque anni Ma gli sci ai piedi Ho avuto fin da quando avevo tre anni Nonostante la neve Sia caduta poca In questa settimana Il lavoro è stato Veramente tanto Da parte dell'organizzazione Di Villaggio Palumbo Come hai trovato Le piste E tutta l'organizzazione Perché già da stamattina Dalle prime luci dell'alba C'era gran movimento Allora Che dire L'organizzazione Fantastica Perfetta La neve Diciamo In prima mattina Era pura neve perfetta Poi ovviamente Ammollato Col passare del tempo Ma comunque Non c'è male Molto molto bello Quindi ci vediamo Ci vediamo Alle finali Ok ci vedremo Alle finali Ciao